Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video in cui ti mostrerò una routine di esercizi anti rigidità da fare con la fitball. Sono Francesco Lanzini, fisioterapista e fondatore di Fisio Social e se questo video ti piace ti invito ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutti i nostri nuovi contenuti. La pandemia ha fatto sì che sempre più persone si adattassero a fare degli esercizi a casa, infatti c'è stato vietato di andare in palestra, di uscire per far sport e quindi tante persone hanno comprato questa fitball che in realtà costa pochissimo ma è uno strumento molto utile per fare diversi esercizi ed in questo video ti mostrerò una serie di esercizi anti rigidità di allungamento delle diverse catene muscolari che ti consiglio di fare anche giornalmente se ti va oppure nei periodi in cui ti senti particolarmente rigido. Infatti ci sono alcuni periodi nella nostra vita per cui magari o siamo particolarmente stressati o dobbiamo passare tanto tempo al computer fermi nelle stesse posizioni in cui i nostri muscoli e in particolare la catena posteriore dei muscoli della lombare e delle scapole oppure la catena anteriore o le catene laterali vanno ad irrigidirsi parecchio. In questo video, in questa routine di esercizi ti mostrerò appunto una serie di esercizi che serviranno per andare ad allungare le diverse catene muscolari. Voglio specificare che non è importante solo l'allungamento muscolare ma se hai visto altri dei nostri video saprai che per stare bene e avere dei muscoli forti appunto ed elastici e flessibili è necessario oltre a fare questi esercizi di allungamento andare a fare anche degli esercizi di rinforzo. A tal proposito ti lascio qui un nostro video che si chiama routine di esercizi mattutini che ha fatto Klaus dove troverai anche degli esercizi di rinforzo oppure vai nel nostro canale perché comunque ci sono tanti esercizi di rinforzo per la schiena per la postura che ti serviranno a migliorare il tuo stato di benessere in generale. Il primo è un esercizio di mobilità delle gambe della catena posteriore quindi esercizio semplice vai con la parte posteriore quindi dei polpacci dei piedi ad appoggiare quella parte sulla fitball e vai a portare entrambe le gambe al petto ok vai distendi bene e vai su questo lo usiamo un po come esercizio di allungamento della muscolatura della catena posteriore o anche un po come riscaldamento. Ripeti questo esercizio per 12 volte per tre o quattro serie usandolo come riscaldamento. Andiamo ora a vedere un allungamento della muscolatura invece un po più laterale della esercizio abbastanza semplice ti consiglio di tenere le ginocchia a 90 gradi le anche a 90 gradi braccia appoggiate e vai a scendere da una parte in modo da allungare la parte posteriore del lato opposto da cui sto scendendo e dall'altra. Scendo bene spalle le cerco di tenere appoggiate e di là ok ripeto anche questo esercizio per 10 volte per tre o quattro serie benissimo in questo terzo esercizio ti faccio vedere come andare a allungare la muscolatura pettorale la muscolatura del gran dorsale e di altri muscoli della schiena e della parte un po più alta della schiena ok ti faccio vedere due versioni la prima quella un po più centrale e invece la seconda versione in cui vado ad allungare le porzioni un po più laterali invece di questi muscoli vai in questa posizione se fai fatica a stare in questa posizione puoi farlo anche da seduto su una sedia e mantenendo appoggiate le mani sulla palla vado ad allungarmi in avanti non le tengo troppo vicine le tengo un pochino più allargate direi un po più larghe rispetto alle spalle e vado giù ok mi porto in avanti faccio scorrere anche un po la pallina avanti posso rimanere per uno o due secondi e ritorno su vado di nuovo sento che si allungano bene i muscoli anteriori e torno su posso anche andare un pochino in giù con il capo con la testa perché questo mi porterà ad allungare un pochino la parte anteriore è chiaro che non devo flettermi in avanti ma scendere ovviamente tenendo la testa in orizzontale un pochino verso il basso e risalgo ripeto questo esercizio per otto volte per tre o quattro serie andiamo ora invece a vedere la versione laterale quindi la posizione è sempre la stessa questa se fai fatica ti metti sulla sedia e vai a inclinarti da una parte ok quindi mentre ti abbassi ti inclini da una parte sentirei ovviamente tirare tutto il lato opposto al quale ti sta inclinando è un allungamento della catena laterale infatti oltre che posteriore vado e ritorno vado giù in avanti e ritorno vado giù in avanti e ritorno il mio consiglio è comunque di fare entrambe le versioni quindi sono due esercizi quindi lo vado ovviamente poi a fare anche dall'altra parte quindi otto volte quello centrale per due o tre serie e poi otto volte a destra e otto volte a sinistra andiamo invece adesso a vedere un esercizio di stretching statico mentre gli altri erano esercizi di stretching dinamico cioè erano allungamenti mentre ci si muove in questo esercizio bisogna stare fermi in una posizione e serve per andare ad allungare tutta quella che è la catena anteriore cioè i muscoli anteriori delle gambe dell'addome e del petto partiamo con questo esercizio il mio consiglio è di appoggiare qualcosa al di sotto delle ginocchia perché sul pavimento fa abbastanza male quindi puoi usare delle ciabatte un cuscino da mettere sotto piedi sono un po separati gambe sono un po separate vado a schiacciare la parte anteriore della caviglia contro il pavimento se possibile ovviamente se non riesco a schiacciare fino in fondo fino a dove riesco va bene senza sentire male e vado ad appoggiare la fitball sui piedi ok più sarà lontano meno tirerà però viene anche un pochino più difficile da eseguire l'esercizio quindi il mio consiglio è di tenerla ben vicino ai piedi a questo punto mi vado a portare un pochino indietro ok porta un pochino indietro è possibile che già qui a questo punto tanti iniziano a sentire tensione a questo punto se senti già molta tensione puoi fermare l'esercizio ok quindi questa posizione tenendo magari anche la testa un pochino indietro vado a mantenere questa posizione per una decina una ventina di secondi a seconda di quanto ce la fai ok poi se voglio aumentare ancora di più la difficoltà vado allungarmi indietro con le braccia a questo punto mi devo ricordare di non andare in apnea ma di respirare facendo dei respiri profondi magari cercando anche di gonfiare un po la pancia quindi inspiro e butto fuori inspiro e butto fuori un esercizio molto bello perché permette di allungare tutta la muscolatura anteriore quindi della pancia della schiena se fai fatica a rimanere con la testa in giù perché vedi come hai visto a un certo punto la testa va verso il basso puoi tenerla anche un pochino flessa soprattutto le prime volte però il consiglio è che se ce la fai o comunque se pian piano vuoi abituarti a fare questa cosa puoi partire con un tempo magari un po più basso di 10 secondi tenendo la testa in giù ovviamente la testa inclinata in giù e poi pian piano puoi aumentare in modo che comunque si vadano ad allungare anche i muscoli della muscolatura anteriore della colonna cervicale che sono dei muscoli che comunque molto spesso sono tesi e tendono a dare anche fastidio e rigidità questo esercizio era un pochino più complicato rispetto agli altri quindi se ti accorgi che nel farlo senti dolore o ti sembra un pochino troppo difficile per la tua condizione la tua capacità di fare questi esercizi non ti preoccupare saltalo ti consiglio piuttosto di andare sul nostro canale andare a vedere appunto degli altri video un po più semplici con degli esercizi un po più semplici che possono permetterti di andare ad allungare la muscolatura anteriore infatti nel nostro canale ormai ci sono più di 200 video di esercizi e quindi c'è un bel po di materiale su cui andare a ragionare sperimentare spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia piaciuto la football secondo me è un strumento molto utile per mettere della difficoltà e anche un aiuto in alcuni casi negli esercizi quindi se ti è piaciuto il video lasciaci un like e iscriviti al canale per vedere altri video come questo e magari se ti va di vedere un altro video con gli esercizi sulla football scrivimelo nei commenti di modo che io o Klaus ci mettiamo a fare comunque un altro video su questo argomento grazie e alla prossima